Musica Tunnel intelligente, c'è chi dice no. Il presidente del consiglio comunale Carlo Benedetti, perché spiega ci vorrà troppo tempo e la priorità assoluta è quella di far rientrare in casa le persone negli aggregati ricostruiti, almeno nell'asse centrale. Senza attendere la realizzazione del reticolo di tunnel di 80 milioni di euro che correrà nel sottosuolo del centro storico, in cui saranno collocate fognature, la rete N, la bassa e media tensione per l'illuminazione pubblica e privata, la rete telefonica e quella fibra ottica. Gallerie ispezionabili e percorribili che abbatteranno i costi di manutenzione ordinaria e gli interventi di riparazione. Progetto smart è all'avanguardia, ma denuncia Benedetti che rischia di congelare con i suoi tempi i destini della ricostruzione e del ripopolamento del centro storico. In un anno si sono fatti 20 metri a via Sallustio e si è impedita la ricostruzione dei palazzi che insistono su questa arteria importante che collega in fondo la periferia al centro. Segnano un ritardo nell'esecuzione delle opere che alla lunga può in effetti impedire il ritorno delle attività commerciali in centro storico, la residenzialità in centro storico e la riapertura del centro storico come formale punto di aggregazione sociale della città, quindi dei giovani, delle persone meno giovani, del mondo delle professioni e soprattutto del commercio. La soluzione quale sarebbe? La soluzione è ovviamente continuare con i cunicoli intelligenti laddove si può, laddove ancora non c'è urbanizzazione e si lavora in mezzo alle macerie. invece procedere ad una ristrutturazione di una rete di sottoservizi normale nella zona dell'asse centrale che è la zona che deve essere privilegiata, deve tornare ad essere la zona simbolo della città, la zona abitata e vissuta quotidianamente dagli aquilani. Nel 2017 abbiamo preso un impegno di riconsegnare l'asse centrale come ha voluto il Consiglio Comunale con la mozione votata all'unanimità del 17 gennaio del 2011, dobbiamo riconsegnare quella parte importante della città, gli aquilani. Non possiamo rinaugurare un nuovo cantiere. Umberto Trasatti, segretario provinciale della CGL L'Aquila. La CGL da mesi invoca l'apertura di un tavolo per riconoscere l'area interna dell'Aquilano, che sono il 95% dell'intera regione, come area di crisi. Oggi voi insistete anche sul fatto che c'è un altissimo tasso di pensionati che hanno le pensioni molto basse. Quali sono i numeri di questa ulteriore emergenza che quindi non riguarda solo lavoratori e casse integrati? Il bilancio sociale dell'Inps, presentato qualche mese fa, ancora una volta ha certificato che nella provincia dell'Aquila abbiamo circa 100.000 pensionati con un livello di pensione media di 599 euro, circa il 20% inferiore alla media regionale. Questo è un ulteriore dato che certifica in qualche modo le difficoltà delle aree interne e dentro il problema delle aree interne la provincia dell'Aquila rappresenta davvero oltre il 90%. Quindi abbiamo inteso con le altre organizzazioni sindacali avviare un confronto con le segreterie regionali CGL e Cisleguille per aprire un'avvertenza delle aree interne. Si sono chiesti i tavoli di confronto per affrontare in qualche modo i problemi legati alle aree di crisi. Ma qual è la risposta da parte della regione? La regione ha dato disponibilità ad avviare subito un confronto, si è iniziati con le aree di crisi e purtroppo i nostri territori vivono una condizione di crisi drammatica certificata anche qui da dati non solo di disoccupazione ma anche dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali. Quali saranno gli effetti concreti per pensionati con la minima, per cassi integrati, per disoccupati con il riconoscimento di un'area di crisi, vantaggi concreti? Il problema è questo, che quando si parla di aree di crisi bisogna mettere in campo interventi non solo a sostenere le attività produttive e qui si sta facendo un ragionamento con la regione Abruzzo ma anche qua gli interventi necessari a garantire una qualità dei servizi efficace perché sono necessariamente lo strumento per evitare o per arrestare un lento ma inesorabile spopolamento delle aree interne. Donne scienza, passato, presente e futuro. Questo è il titolo del secondo appuntamento di Prospettive Rose, l'iniziativa messa in campo dagli assessorati alla cultura, pari opportunità e politiche sociali del Comune dell'Aquila in vista della giornata internazionale della donna del 2016. Protagonista questa volta le donne di un'università che rosa in un terzo del corpo docente per oltre il 50% delle iscritte. A indicare la via fiori all'occhiello dell'Ateneo a livello internazionale, donne che hanno raggiunto grandi risultati nel campo della ricerca scientifica. Ci sono tante donne in buone posizioni di responsabilità ma anche tante ricercatrici che hanno dei risultati assolutamente di rilievo nel campo internazionale, noi ne vedremo qui a questo tavolo qualcuna. Resta ancora tanto da fare, l'idea di oggi è capire come si può fare in modo che le giovani donne riescano a fare questa scelta in modo più libero e meno conflittuale di quanto in realtà poi alcune di noi, anche alcune di loro, delle più giovani hanno dovuto fare. La rettrice Paola Inverardi non dimentica poi di sottolineare l'importanza del welfare universitario per garantire in particolare alle donne pari opportunità nell'accesso agli studi. In campo molti progetti che stiamo anche cercando di discutere con il comune, con l'assessorato di Emanuela Di Giovan Battista, delle pari opportunità e tipicamente sono quelli che uno si immagina quindi l'idea di poter avere un asilo nido o un asilo vicino ai luoghi dell'università in particolare quello che stiamo studiando ora è in prossimità dell'area di Coppito come prima cosa. Poi l'idea di, e su questo anche ci stiamo muovendo, di organizzare campi scuola. Uno dei problemi più sentiti dalle famiglie di chi lavora nell'università è quello della possibilità per i figli quando finiscono la scuola di trovare un luogo nel quale non solo giocare, passare tempo ma anche crescere e su questo anche stiamo lavorando. Le racchette da neve per esplorare le bellezze naturalistiche dell'altopiano di Campo Felice saranno proprio loro le protagoniste della dodicesima edizione di Racchette in Gran Sasso in programma domenica 14 febbraio alle ore 9 con partenza dall'hotel Vecchia Miniera sull'altopiano di Campo Felice. L'evento è stato organizzato per il dodicesimo anno di fila dalla sezione aquilana del club alpino italiano. Il direttore della scuola di escursionismo Felice Flati spiega ai nostri microfoni come si svolgerà la particolare giornata con le racchette in mano. È un percorso di media difficoltà di 5 chilometri e 300 metri, in più ci sarà un altro percorso per le famiglie e per i bambini e purtroppo quest'anno siamo svantaggiati da questo problema che c'è del meteo e della neve, però la sezione ha voluto mantenere questa data perché abbiamo una serie di impegni con le altre sezioni e ospiteremo molte sezioni del centro Italia per cui anche se non ci sarà una nevigata abbondante che la prevediamo in queste ore comunque faremo questo incontro per stare tutti insieme nello spirito di quello che è la montagna che unisce e avvicina le persone. La manifestazione sarà l'occasione per valorizzare le bellezze naturalistiche di Lucoli, palcoscenico della giornata. Siamo onorati, è importantissimo questo evento e siamo onorati che il CAI ha tenuto a valorizzare perché sono stati loro a proporci le bellezze naturalistiche della valle lucolana. Questa è la seconda edizione che si svolgerà a Lucoli, nel territorio di Lucolano. La prima è stata fatta direttamente sulla piana di Campo Felice. Questa volta invece si tende a valorizzare proprio la vallata, quindi dalla partenza della vecchia miniera verso Casamaina, quindi un percorso se vogliamo nuovo, anche un po' più impegnativo e che porterà certamente ad apprezzare tutti coloro che parteciperanno a questa ciaspolata le bellezze della nostra vallata. Tra l'altro, Racchetta in Gran Sasso è solo uno dei tanti eventi in programma nel 2016, come spiega il presidente CAI della sezione dell'Aquila, Pier Giorgio Barducci. Sono 130 anni della costruzione del Rifugio Garibaldi, 90 anni del battesimo di Monte Aquila e 50 anni della costruzione del bivacco Bafile, intestato alla medaglia d'oro Andrea Bafile. Per cui ecco, ci vede protagonisti sul Gran Sasso di tutti questi eventi e non soltanto sul Gran Sasso, ma anche con racchette in Gran Sasso che noi abbiamo voluto fortemente che sia una manifestazione itinerante proprio per dare una maggiore conoscenza a tutto ciò che è l'ambiente montano che ci circonda. Grazie a tutti.